nata sulla scia di cartoceto dopo il festival domenica prende il via la rassegna trionfo gourmet da chi è organizzata che cosa prevede ma intanto la rassegna organizzata dal comune di cartoceto in collaborazione che rientra all'interno delle iniziative di valorizzazione dei borghi dell'entroterra regionale in collaborazione ovviamente con il consorzio di tutela della d'op cartoceto con l'associazione italiana sommelier valli a scoprire il raggruppamento di 15 comuni dedicato un po' alle progetti di valorizzazione turistica nonché con gli itinerari della bellezza della provincia di peso urbino a valle di cartoceto dopo il festival continua direi questo viaggio sensoriale immersivo all'interno del territorio di cartoceto non solo all'interno del borgo ma in generale all'interno di quelli che sono i suoi elementi che contraddistinguono il patrimonio da quello artistico culturale storico da un lato a quello dell'eccellenza agroalimentare dall'altro e appunto trionfo gourmet sono questi straordinari pranzi a quattro mani che verranno preparati all'interno della cornice del settecentesco teatro del trionfo da chef d'eccellenza vini raccontati dall'associazione italiana sommelier per l'appunto come dicevo prima e con dei concerti dedicati tutto in un'atmosfera davvero molto molto intima perché i partecipanti siederanno in platea quindi un numero massimo di circa 50 60 persone per cui davvero sarà un'atmosfera direi unica oltre che magica all'interno della cornice del teatro del trionfo di cartoceto sarà necessario prenotare assolutamente sì il numero per le prenotazioni è lo 0721 89 84 37 o comunque tutti i riferimenti e i dettagli relativi ai menu le modalità di partecipazione e soprattutto anche a gli chef così come le formazioni musicali che si esibiranno all'interno del teatro del trionfo in questi tre date cioè quella del 26 di novembre 3 dicembre e 8 dicembre potete anche trovarli sui canali social di cartoceto turismo